C'è questa che è, è una del Vietnam Il periodo del Vietnami C'è anche la fotografia di gruppo Questo è un bel prezzo qua Non ti vede in casa, no? No, no, no Non ti vede in casa Ma per fare una copertura No Non le facevo, non le facevo Non le facevo, non le facevo Non le facevo, non le facevo Non le facevo Ah, si Ah, non le facevo Un saluto C'è il bolo No Bolo Cuidio Cuidio C'è la bolla 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 Quella è spazzata Un po' C'è la bolla Ma che c'è qua che vuoi, che si non si vedevo qua. Tutto l'obbarezione, non sa cosa niente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tutti i soldi suoi non ha basto, lui prende un migliore e mezzo al mese, un milione e quattro, un milione e quattro e cinquante. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.